Ciao a tutti. Sono tornato con un altro tutorial. Oggi ti mostrerò come creare una playlist su YouTube. Quindi ragazzi, iniziamo per prima cosa. Assicurati di aver scaricato un'applicazione YouTube, quindi vai all'applicazione YouTube e fai clic su di essa. Una volta aperta l'applicazione YouTube, come puoi vedere, ti indirizza alla home page di YouTube, dopodiché, come puoi vedere di seguito, fai clic sulla libreria. Quindi, dopo aver fatto clic sulla libreria, come puoi vedere, c'è un'icona della playlist che ho ombreggiato, quindi fai clic su di essa. Dopo aver fatto clic sulla playlist, in realtà ti indirizza alla playlist, quindi come puoi vedere c'è un'icona a tre punti proprio in alto. L'ho ombreggiata, quindi fai clic su di essa. Dopo averla cliccata, come puoi vedere, c'è una nuova playlist, quindi fai clic su di essa. Dopo aver fatto clic su Crea nuova playlist, questo apparirà come puoi vedere. Puoi aggiungere video alla tua playlist, se lo desideri. Dopodiché fai clic su Avanti. Quindi, dopo aver fatto clic su che apparirà la nuova playlist come puoi vedere, puoi digitare qualsiasi titolo tu voglia digitare. Qui, digiterò il gruppo di test, dopodiché puoi fare clic sotto su di esso puoi selezionare o lo farai pubblico se vuoi che chiunque possa vederlo, o non in elenco se vuoi che il tuo amico possa guardarlo puoi inviargli qui il link, e privato se vuoi che tu sia l'unico a poterlo vedere, dopodiché fai clic su Crea. Ora, come puoi vedere, la playlist è stata creata con successo. Quindi, ora se vuoi aggiungere alcuni video o qualsiasi video tu voglia aggiungere nella playlist, torna alla libreria. Quindi puoi cercare un video li puoi selezionare qualsiasi video tu voglia aggiungere o è una commedia, intrattenimento o qualunque sia il video che vuoi aggiungere. Dopodiché come puoi vedere c'è un'icona a tre punti su ogni video fai clic sui tre punti dopo come puoi vedere c'è un salvataggio nella playlist, fai clic su di esso dopo come puoi vedere seleziona la playlist che che hai creato. Quindi fai clic sull'icona della multa o del segno di spunta dopo che il video è stato aggiunto correttamente alla playlist, vai alla playlist quindi cerca il video che sei stato aggiunto. Questo è tutto ragazzi, grazie per aver guardato questo video.